Concluso con successo lo stage di alternanza scuola-lavoro per due classi dell'Istituto Turistico Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio Di Bartolo presso la nostra emittente televisiva. Gli studenti hanno potuto sperimentare effettivamente come si lavora nell'ambito della comunicazione con particolare riferimento all'attuale situazione economico-sociale della nostra città e alle prospettive di sviluppo alternative alla produzione di carburante. Hanno partecipato a conferenze stampa, ha capito come si realizza un telegiornale ed espresse il loro contributo di idee ed opinioni. Hanno incontrato personalità provenienti da diversi ambiti professionali come il giornalismo, la cultura, la politica, la musica e anche gli studenti dell'Università di Berlino. L'attività di alternanza scuola-lavoro è coordinata dalla professoressa Clelia Muzzicato. Ricorderemo questi due incontri che abbiamo avuto con voi che sono stati abbastanza interessanti perché comunque ci hanno parlato di cose che ci riguardano, appunto su proposte per incentivare il turismo nel nostro territorio, che personalmente questa è una cosa che mi interessa perché appunto il turismo è nelle nostre mani, noi dobbiamo cercare di incentivare il turismo il più possibile. Quali potrebbero essere le prospettive di sviluppo per questa città? Il fatto comunque di incentivare appunto il turismo, cercare di appunto fare delle novità per attirare il turismo nella nostra città, visto che comunque non abbiamo molta presenza turistica, attraverso magari social network cercare di creare qualche evento magari nelle piazze. Questa alternanza ci ha fatto capire i punti, ci ha sì, saremo in grado comunque di seguire e indirizzare un gruppo nella nostra città. Da quest'anno nelle scuole per le terze classi c'è un'opportunità in più, l'alternanza scuola-lavoro, che tipo di progetti state portando avanti? Allora noi per il turistico abbiamo portato avanti un progetto insieme ai dirigenti del museo che ci ha fatto comprendere l'importanza della nostra città, soprattutto per quanto riguarda quelli che sono i nostri reperti storici e anche la bellezza paesaggistica del nostro territorio e come noi potremmo proporre in futuro il nostro territorio ad altri, possiamo dire non solo in Italia ma anche nel mondo.